Amici in tre minuti, oggi mi trovo in compagnia di Michele Torpedine, producer e manager del Volo. Qui alle mie spalle è la chiesa di San Lorenzo dove prende inizio e il via alla rassegna Equilibri. Oggi quindi inizia il ciclo delle presentazioni con il suo libro, dal titolo Ricomincio da tre. Di cosa tratta questo libro? Non è un romanzo ma è solo raccontare, chiarire tutto quello che è stato fino adesso con i miei artisti che ho prodotto negli anni. Più che altro perché a un certo punto questo libro poteva anche chiamarsi legittima difesa. Poi ho preferito mettere il ricomincio dai tre che chiaramente è riferito al volo perché loro mi hanno dato la voglia, questa boccata d'ossigeno per riprendere a fare il lavoro in un certo modo. Visto la correttezza e come sono loro praticamente e questa è un po' stata la volontà di questo libro. In tutti questi anni ho sentito tante cose raccontate in maniera diversa, anche un po' di bugie, un po' di cose. Ma visto un po' l'età sarebbe ora di mettere un po' di ordine in tutti questi progetti. Quali sono gli anni presi in considerazione? Tutto il periodo di Duccaro, di Bocelli, di Pino Daniele, di Giorgia soprattutto, anche di artisti che in qualche modo ho goduto molto perché sono stati successi mondiali, però sono stati anche, diciamo che un po' il libro inizia dicendo che la parola grazia non esiste. Effettivamente succede poche volte i ringraziamenti nel nostro ambiente. C'è un periodo che lei ama particolarmente? Beh ma tutto il periodo di questi quarant'anni di musica è stato bello, certo non posso renegarlo, però ci sono state delle cose che magari non mi hanno fatto piacere. Il fatto di non essere gratificato, riconosciuto, oltre alla percentuale perché i manager o i produttori sembra che tutto gli sia dovuto con la percentuale. Invece a volte abbiamo bisogno anche noi di un grazie. Nuovi progetti? Il decennale del volo, sembrerà strano ma quest'anno, a fine anno, inizia il decimo anno di carriera del volo. Facciamo grandi progetti in tutto il mondo, da Radio City di New York fino all'Italia, avremo un tour mondiale con tutta una raccolta loro, uno speciale di Ray Uno. Sarà un anno tutto dedicato a loro. Il boss. Grazie.